Sarà stato un anno fa, Cano Andrea, che eravamo in spiaggia insieme, a Gabice Mare. Non era Rizzone? Forse Rizzone? Eh sì. Che hai conosciuto? Io e te eravamo insieme, no? Sì, ma hai conosciuto quella ragazza. Ah, Mafalda. Mafalda che questa sera tu sei venuto a festeggiare al convento di Donato perché te la sposi, vero? Sì. Mannaggia te, non sono stato molto bravo a fare e cambiare idea, cari ragazzi. Giusto? Senti, ma te la ricordi quella ragazza che gli sparmavi la protezione 8? Non eri tu? Pazza. Pazza, come mamma mia, mi sto emozionando, adesso mi alzo e andiamo a mangiare la pizza insieme. Intanto salutiamo i ragazzi che sono venuti qua al convento di Donato perché poi questo video lo vedranno su www.convento.it. Ciao da Carlone e Andrea. Ciao da Carlone e Andrea. Grazie.